Benvenuti benvenuti cari amici siamo BD qui con questo nuovo video naturalmente come sempre ricordo di suggerire il like, di iscrivervi il canale, iscrivervi anche il canale di Telegram oggi andremo a vedere quello che sta avvenendo su Bitcoin che sta mantenendo il prezzo dei 60.000 dollari importantissimi da un punto di vista psicologico però quello che mi aspetto è potenzialmente prima un intracciamento anche in zona 64 per poi prendere su sarebbe più che salutare e poi ovviamente andremo a vedere quello che sta avvenendo sui meme token e per cui iniziamo subito per cui andiamo a vedere quello che sta avvenendo su Bitcoin in questo preciso momento prezzo di 66.266 dollari c'è stata rottura ok di questo trend discendente di breve periodo quindi attenzione perché come avevamo già detto dai mio punti vista il bottom è stato fatto e il prossimo target potrebbe essere il raggiungimento dei 73.000 dollari, ora io non lo so se arriverà già entro maggio potrebbe avvenire ok ragazzi perché nella giornata di ieri abbiamo fatto un importantissimo ok scale rockets anche sul giornaliero vediamo comunque stiamo andando a riprendere quelle con l'importante resistenza dei 66.700 dollari quindi attenzione perché in caso di rottura potrebbe essere letteralmente proiettato verso il rialzo dopodichè stavo guardando anche il daily rsi e da un bel pochino entriamo nelle zone dei 70 rsi l'ultima volta piena era stata il 5 marzo 2024 poi ovviamente l'avevano rotto però diciamo che proprio il 70 rsi non lo vediamo dal 14 marzo 2024 quindi praticamente sono più di due mesi questa è una situazione molto interessante perché se andiamo a guardare anche quello che è venuto in passato diciamo tempi così lunghi e soprattutto dump così importanti come quando eravamo arrivati al livello di 35 rsi guardate che praticamente siamo andati addirittura al di sotto e recentemente siamo arrivati al 33 rsi potrebbe essere interessante ok nuovamente andare a riprendere zona 70 rsi che secondo me proprio potrebbe implicare l'aggiungimento del tamai quindi attenzione dubito che nel weekend andremo a prendere questi livelli ma ci sarà uno scarico andremo poi a discuterne però molto interessante ok soprattutto anche in ottica meme token per l'appunto quello che ci dice Kevin Svensson è la seguente cosa cioè siamo all'interno della second shoulder di cosa abbiamo bisogno? abbiamo bisogno di una chiusura 64 ok un piccolo scarico per poi prendere e ripartire questo è un po' quello che anch'io mi aspetto quindi attenzione magari nei weekend proprio potremmo scaricare per poi andare su ok questa è un po' la media dopodiché vogliamo andare a vedere se torniamo a un token che sta diventando interessante ok siamo all'acciamo da 6.6 miliardi dogecoin comunque ha tenuto ha perso solo l'1.7 su generale quindi praticamente il meme ha tenuto meglio ovviamente perché meno volatile shiba perde 2.7 pepe va sotto i mille ma secondo me è importante l'action che ha fatto comunque un più 18% sul settimanale quindi ottimo che era entrato su pepe ok già giorni fa come io l'avevo chiamato quindi buona ok la situazione all'interno del meme token addirittura c'è pepecoin nuova forma di pepe che va a fare il 44% e io già ne avevo parlato ieri quindi attenzione nonostante i volumi siamo bassi avete qui volumi market cap di 493 milioni volumi per 2 milioni è interessante ok questa situazione che stiamo vedendo perché voglio mostrarvi proprio di pepe siamo scesi sotto i prezzi mille in questo momento capitazione di mercato di 4.2 miliardi volumi per 912 milioni quindi insomma ne stanno girando i soldi e su pepe quindi attenzione perché direi dal mio punto di vista molto molto interessante e il fatto che abbiamo tenuto anche sul 4 ore comunque il livello della media a 50 periodi è molto interessante ok quindi tendenzialmente sono classici ok questi scarichi di pepe anche molto importanti anche 25% e secondo me potrebbe avvenire un qualcosa di simile la media a 200 l'avevo difficile ok andare a colpire nuovamente zona 800 però abbiamo già visto in passato come si è andata addirittura di sotto quindi attenzione a pepe perché quando scarica scarica forte però io sulle dip ok che secondo me ha senso andarla a prendere chi invece aveva scaricato forte era pepe coin ok che non è proprio pepe ma un altro che si ispira a pepe e vedete qui il prendimento di tamai a 14 dollari è scaricato fortissimo quindi io l'avevo già chiamato ieri secondo me potrebbe ancora spingere ok pepe coin questa è un po' la media ovviamente come sempre ricordo che non sono nei corsi finanziati nei corsi di trading voglio l'atelita altissima però sembra interessante dopo book of meme secondo me anch'esso si ispira a pepe coin capitazione di mercato di 803 milioni quindi stiamo crescendo ogni giorno siamo vicini al billion secondo me il billion che verrà preso volumi per 339 milioni e uno stava un po' quella che è la action perché addirittura bohomi ieri si è spinto in zona 13 e dopo settimana sta facendo nuovi tra virgolette massimi relativi quindi attenzione a bohomi perché a me non si prenderebbe nuovamente ritorno sui 18 ovviamente ci vorrà un po' però sta spingendo bene sta tenendo bene quindi attenzione a bohomi che è molto interessante c'è anche questo tweet che ci dice che bohomi per l'appunto sembrerebbe essere uscito dal cosiddetto l'Italia d'accumulo dopodiché piccolo stop and go per noi perché ti ricordo manca pochissimo ok 2 giugno 2024 super evento super evento a Reggio Emilia in provincia di Sesso andrà a tenere quello che è il mio secondo evento dal vivo quindi ragazzi iscrivetevi perché i posti stanno letteralmente per finire ti lascio sotto il link in descrizione e ti ricordo anche la super promo da parte di BitGet vai a sostenere il canale se ti iscrivi con il mio referral link andrà a ricevere 100 dollari bonus ok se sei nuovo depositando 100 dollari e ulteriori 100 dollari bonus effettuerai 10.000 dollari di trading volume sui future andiamo a vedere ora quello che sta avvenendo sui meme di Bayes in questo momento capitalizzazione di 951 milioni quindi come dico sempre dal mio punto di vista sono altamente sottovalutati vediamo comunque sul settimanale ottimo Brett più 17% Toshi più 5% Boomer più 64% Maga attenzione perché questo è un nuovo meme di Bayes ispirato a Trump più 169% quindi secondo me qui abbiamo letteralmente una miniera d'oro vedremo un po' quello che succederà e voglio vedere con voi quello che sta avvenendo su Brett in questa fase di mercato perché dopo questo scaricone di circa 86% e sembra che Brett abbia letteralmente cambiato marcia guardate qui a partire da questo double bottom di 2 centesimi 8 Brett sta ingranando quindi attenzione perché Brett potrebbe essere carico ok dal mio punto di vista vedremo se andrà a riprendere magari in un volta mai anche andrà a passarlo dopo Degen non sta dando ok le stesse sicuramente potremmo definire come potremmo definirli comunque è successo ok potremmo così definirlo le mie parole ragazzi io faccio video così non registro ok e performance scusate e anche qui però abbiamo avuto un bel un bel double bottom ok quindi in zona 15 quindi attenzione perché secondo me Degen in questa fase di mercato è molto a modo interessante dopo voglio andarvi a parlare di una nuova narrativa che è ancora esplosa che andremo a vedere all'interno anche del gruppo cowboy che ragazzi ci hanno creato Brett sul rete Tino ma oggi più 331% quindi insomma ha ipato forte però la market cap è appena di 4.56 milioni quindi attenzione nel senso non so se sono scam o meno però ragazzi c'è stato un hype veramente pazzesco vediamo sotto che Dex tu ci dà 99 su 99 però la buy tax e sell tax sono dell'1% quindi non è che mi casi sta cosa però sta pumpando quindi magari anche in ottica speculativa potrebbe essere molto a momento interessante Brett su rete Tino vi ricordo che Brett gira su rete base però l'avamo già visto in passato che come anche diciamo dei cloni della coin poi 996 holders hanno fatto numeri quindi attenzione nel senso io lo vedo per lo più in ottica speculativa poi non lo so magari arriva a 40 milioni a 100 milioni se fa 10x 20x questo è il sito ok praticamente loro parlano della sua associazione ok ad esempio con altri meme come Handy Landwolf insomma tutto quel reparto lì che conosciamo dei boys ok però le dicono che chiaramente un per cento in buy tax e sell tax quindi potrebbe essere interessante chiamare in ottica speculativa io vi dico non ci punterei a lungo termine dopo non so che cosa succederà tra l'altro hanno anche sospeso l'account di twitter infine ti ricordo che se anche tu vuoi migliorare quelle che sono le tue conoscenze dell'intero mondo cripto vuoi iniziare letteralmente a sviluppare una strategia e vuoi magari che ti ascolto ok però se sei interessato al gruppo cabui ti ricordo che puoi venire un attacco gratuito io letteralmente ti aspetto e per questo se vi è piaciuto questo video ti ricordo di sottolineare il like iscrivete al canale e noi ci vediamo presto hasta la vista home come breh Grazie a tutti.